Vice Ministro, i risultati del BES come possono essere utilizzati per le azioni di governo? Allora, noi abbiamo l'opportunità in Italia, per primi nel mondo, di poter non soltanto avere un apparato statistico all'avanguardia, quello del benessere equo e sostenibile, ma anche di avere una norma per cui è previsto che entro l'inizio dell'anno il governo debba fare delle simulazioni della legge di bilancio, basandosi sugli interventi legge di bilancio, simulazioni dell'impatto che questa legge potrà avere sulle dimensioni del benessere. Questo secondo me è un modo ottimo per far sì che una valutazione importante sul benessere non resti all'interno degli ambiti accademici, ma divenga parte della programmazione del governo, come si fa con il PIL. Bisogna dire all'Unione Europea che tipo di simulare, che tipo di andamenti sul PIL avranno le manovre finanziarie e lo stesso dobbiamo cominciare a fare per quanto riguarda gli indicatori del benessere. Abbiamo l'opportunità entro febbraio di quest'anno di fare qualcosa di storico. Per questo incontro del 15 febbraio, in cui il governo deve presentare una valutazione sui 12 indicatori del BESS, ha qualche suggerimento specifico? Io ritengo che questo governo abbia, anche dal punto di vista della posizione politica, tutto da guadagnare da una riflessione sul BESS, perché non solo noi diciamo che vogliamo attivare, attraverso un'infusione di capitale e di risorse tra le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, le famiglie a riattivare la domanda aggregata, ma anche fare in modo che ci sia una ricaduta positiva su una serie di dinamiche non monetarie, cioè per esempio sul benessere territoriale, sulle condizioni familiari, sulla dispersione scolastica, sulla diminuzione delle disuguaglianze della povertà. Ecco, noi dobbiamo sfruttare il fatto che oggi abbiamo un apparato di indicatori che è in grado di fornirci informazioni per fare in modo che le nostre politiche siano valutate non soltanto sulla crescita come tale, ma su una serie di dimensioni ulteriori e che possano essere migliorate nel tempo sulla base delle informazioni che ci vengono anche da indicatori come il BESS.